I taxi e i tassisti del Cairo, una presenza quasi soverchiante nel caotico traffico della metropoli mediorientale ma anche una testimonianza su come viva buona parte della società egiziana. Per il guadagno dipende soltanto da Dio. Si comincia alle 4 ma il turno degli autisti del mattino per legge è dalle 8 alle 3. Poi magari il proprietario del tassi ti promette 50 lire ma poi in realtà ne guadagno 20. La cosa più importante è che consegno al proprietario del tassi la sua parte. Per Gamal e per decine di altri suoi colleghi di lavoro, quest'area del quartiere Ahmed Orabi è un luogo dove concedersi una breve sosta. Sigarette e un bicchiere di tè alleggeriscono la fatica di uno dei lavori più stressanti e diffusi al Cairo, quello del tassista. Si chiacchiera di problemi personali e di politica, più spesso però ci si aiuta nel rimediare agli acciacchi di motori e carrozzerie logorate da decenni di traffico urbano. Un collage di pezzi meccanici riciclati da altri modelli di auto. La metropoli egiziana è forse la capitale mediterranea dei taxi. Sono circa 40.000, la maggior parte dei quali verniciati in bianco e in nero. Sciamano notte e giorno in tutte le zone del Cairo, assicurando corse spartane ma a basso costo, specie se il cliente non rientra nella categoria del turista sproveduto. La concorrenza per questi autisti è solo una delle tante sfide quotidiane. Ci sono troppe automobili, la metropolitana, i microbus, gli altri taxi, i motocarri che ci fanno la concorrenza. A noi che cosa resta? Abbiamo un detto. Quando gli sono venuti i capelli bianchi lo hanno fatto entrare all'asilo. Che altro lavoro posso fare? Io sono fuori tempo massimo. Dove vado? Che lavoro mi invento? Negli anni 90 il governo egiziano ha consentito la conversione di tutte le vecchie auto in taxi, cercando così di favorire l'occupazione di migliaia di senza lavoro. Folle di disoccupati si sono gettate nella classe dei tassisti utilizzando auto personali o affittando mezzi scalcinati di altri privati, presto divenuti veri e propri padroncini. I guadagni sono tartassati dalle spese, da quelle per il rilascio dei permessi, spesso favorito da regalie e mazzette, a quelle per la manutenzione, senza contare i costi della benzina e delle multe sempre più frequenti, anch'esse oggetto di trattativa personale fra tassista e poliziotto. Questa lotta per la sopravvivenza è stata descritta qualche anno fa dal giornalista Khaled Al-Khamissi in un bestseller intitolato Taxi, un saggio che è anche un ritratto sociologico urbano della capitale egiziana. Moltissimi ragazzi laureati o con titoli di studio in genere cercano un lavoro senza trovarlo. La tesi è sempre quella, se so guidare bene faccio il tassista, almeno finché non trovo un lavoro che mi piace. Molti sono emigrati nei paesi del Golfo e quando sono tornati non hanno trovato alcun lavoro e hanno cominciato a fare i conducenti di taxi. Per questo motivo il tassista in realtà ha provenienze geografiche e culturali diversissime. C'è gente che ha un master, gente laureata, gente che sa malapena leggere e scrivere, insomma un cocktail umano incredibile che è largamente rappresentativo della società egiziana, escludendo ovviamente i miliardari. La classe dei tassisti accrisce i guadagni di meccanici, ricambisti di auto e delle banche che concedono prestiti per l'acquisto delle auto. Nel caotico traffico del Cairo, gli autisti sono al tempo stesso vittime e carnefici di se stessi. Il lavoro potrebbe andare bene se portassero fuori città gli uffici e i ministeri lasciando al centro qualcosa di bello. Ad esempio a Midan Tahir e al complesso Tahir guarda un po' il traffico che c'è alle due. Se uno ci deve arrivare da Qasra a Ini non riesce a camminare perché dall'una alle quattro ci sono gli impiegati che escono, riempiono le strade e intasano tutto. Gli autobus del ministero accostano sulla destra, fanno salire gli impiegati e bloccano tutto. E la strada è un budello. Che cosa bisogna togliere allora? Gli autobus, i taxi o i pullman delle amministrazioni pubbliche? Se le strade di una metropoli sono lo specchio di una qualunque società, i tassisti del Cairo, con il peso della propria precarietà, sono la voce forse più genuina della società contemporanea egiziana. Il tassista è un egiziano come un altro, nelle cui parole si cela una saggezza profondissima che dipende dalla relazione del popolo egiziano con il potere. Questa saggezza si manifesta quotidianamente, ora nelle barzellette, e ora in determinati punti di vista di estrema profondità nei confronti della politica. La verità è che ho sentito dai tassisti e dalla gente per strada, analisi politiche più profonde di molti saggi accademici che ho letto. E questo riflette la saggezza della società egiziana. Vorrei fare un altro lavoro, diverso da questo, perché il traffico delle strade ti ammazza. i fianchi, la schiena, i muscoli, tutto il corpo, per colpa del traffico. A volte poi capita che il cliente ti dice di prendere una strada secondaria, non quella principale, e tu la trovi bloccata e rimani fermo anche un'ora, un'ora e mezza. Che ci vuoi fare? Con i clienti è così? Preoccupati solo di poter guadagnare il necessario per vivere, pochissimi tassisti del Cairo sanno di essere stati l'oggetto di un libro di successo. Il tassista è in continua lotta per la sopravvivenza. Non ha un attimo per leggere un libro. Ha sempre l'enorme problema di pagare il nolo del taxi che guida e per questo deve procurarsi in ogni modo 80 lire. Mettere la benzina e portare a casa dei soldi per dar da mangiare alla moglie e ai figli. Il fatto che un tassista possa leggere un libro o sentirne solo parlare è in realtà qualcosa che fa parte del mondo delle favole. Entro il 2012 tutti i taxi con oltre 25 anni di vita dovranno essere rimpiazzati da nuovi mezzi. Il governo egiziano promette incentivi e mentre le banche hanno già lanciato piani di finanziamento, l'industria automobilistica intravede la possibilità di cancellare dalle strade ogni traccia di veicoli che in Europa non circolano più da anni. È una riforma che potrà forse alleggerire l'inquinamento del Cairo ma che rischia anche di favorire solo i padroncini dei taxi togliendo ai più poveri fra i disoccupati la possibilità di guadagnare a fatica, giorno per giorno, ciò che consente loro di sopravvivere.